Arriva Davidi, Presidente dell'Associazione a Scopo Culturale e di Promozioni Sociali Leali di Icaro. Quest'estate proponiamo una rassegna cinematografica dal titolo Isole. Abbiamo scelto questo titolo volontariamente per fare riferimento al periodo di isolamento che abbiamo passato e per descrivere una metafora fondamentale. Un'isola è un qualcosa di naturale a cui non manca niente, acqua, cibo, eccetera, però è circondata dalla solitudine, dal mare, è quello che abbiamo vissuto anche noi in questa fase di pandemia. E a quello che manca un'isola è altra terra, è altra parte simile. E il cinema, secondo noi, è un mezzo importantissimo per creare legame. Stare davanti a uno schermo, assaporarsi lo stesso film, è qualcosa di indescrivibile, che può curare tutte le ferite, anche quelle legate alla solitudine e all'isolamento. Quindi proponiamo quattro film per un momento di spensieratezza per la comunità e a tal proposito ringrazio il Comune di Montevarchi per averci fornito la possibilità di scegliere i film che secondo noi meglio rappresentavano quello che volevamo comunicare e sono quattro fondamentalmente. I Love Radio Rock, Birdman, Everest e Perfetti Sconosciuti. Non li ho definiti in ordine cronologico, però. Tutti e quattro hanno a che fare con la tematica dell'isola, intesa sia come un film girato in uno stesso ambiente, quindi c'è l'isolamento dal punto di vista scenografico, sia per quanto riguarda l'isolamento e l'estraneazione che prova il personaggio nei confronti della realtà. Però comunque sono tutti film che hanno un tocco di leggerezza per questi stati multivarchini.